Mi è piaciuta la disponibilità di tutti voi, mi è piaciuta la materia, bisognerà lavorarci, è bella, sono degli ottimi contenuti e ripeto bisognerà lavorarci perché io ho trovato soprattutto difficoltà nel lasciarmi andare, ecco dovrò lavorare su quello. A tutte le persone che vogliono provare a guardarsi dentro e cercare di migliorarsi, il rapporto con se stessi e anche con tutto il mondo. Quello che abbiamo trattato, da 0 a 10 non sono arrivato al top in nessuno, però verso la metà in tutti ecco, ha una maggiore serenità e anche sicurezza. Atrizia, ciao, grazie e un abbracione. Grazie.